Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Porto Viro. Siamo all'inaugurazione dello Smart Hotel BB Cube dei fratelli Adriano e Michele Bersani. Una riqualificazione importante in un angolo strategico della città di Porto Viro e come ha detto il sindaco Maura Veronese un complimento sincero ai fratelli Bersani per aver scelto ancora una volta Porto Viro per completare la loro offerta di ospitalità. Seguiamo un po' l'evento e le interviste fatte nella serata. Il fatto di aprire una nuova attività, lo sappiamo, è sempre una cosa positiva, significa che la nostra società e la nostra economia continuano ad avere qualcosa da dire, ma in realtà credo che sia ancora più importante il fatto di aver deciso di avere BB Cube nel periodo in cui è nato, perché è nato in un periodo successivamente alla pandemia. Non è una cosa che si sono regalati solo Adriano e Michele, ma è una cosa che hanno regalato a tutta la città e l'hanno regalata, non è la prima volta che regalano una cosa bella alla città perché insomma, orologio prima, zafferano poi, insomma qui completiamo praticamente tutto quello che è l'accoglienza, lo star bene e il vivere bene. Adriano Bersani, ma che meraviglia hai fatto? La tua famiglia sempre in poi posisce, veramente hai fatto un capolavoro qua a Donada, come ha detto il sindaco, hai dato l'uso all'inizio con l'orologio, con lo zafferano e adesso questa nuova avventura. Cosa ti spinge a far tutto questo? Niente, la voglia sempre di crescere nel nostro territorio, la voglia di fare il nostro lavoro e adesso con questa nuova avventura poi speriamo bene poi quelle situazioni che ci sono. In un momento dove tutti fanno fatica a rilanciare, tu rilanci alla grande e forse questo è l'antidoto per venire fuori dalla crisi? Io credo al territorio, credo alla mia terra e anche a questo nuovo tipo di turismo che sta nascendo. La voglia di creare un'ospitalità c'era fin dai primi giorni in cui abbiamo creato l'orologio, l'ospitalità intesa come alloggi. Adesso abbiamo realizzato il nostro sogno e speriamo sia un sogno positivo. Noi ti facciamo i complimenti, è veramente un piacere vedere i produttori come te che rilanciano, che danno lustro, impiegano persone e complimenti veramente. Grazie a voi, grazie di essere qua. Grazie a tutti.